Secondo delle parole chiave che sono state osservare, giudicare e agire. Quindi una presenza che diventa presenza progettuale. E con l'ultimo modulo che è quello che stiamo vivendo appunto sulla corresponsabilità stiamo parlando di una corresponsabilità che si fa a programmazione partecipata. Non più un'asse verticale che si organizza su ritualità, compiti, ma un'asse verticale che incontra un'asse orizzontale. Perché l'uno senza l'altro non può stare. I radicalismi, le estremizzazioni lasciamo gli ad altri. Invece una pastorale che sia sempre di più azione, che vede protagonista il popolo, che si organizza gerarchicamente con i suoi pastori, ma che vede anche una ricchezza esprimersi nelle forme della vita quotidiana, in una responsabilità che sta nella memoria, nell'educazione, nel narrare delle scelte di vita, nella scuola, nel tempo libero. Quindi una pastorale che diventa molto più ampia, molto più sicuramente interessante sotto questo profilo. E devo dire che questo laboratorio ha avuto la grande ispirazione nel piano pastorale del Vescovo, che puntando l'attenzione su un nuovo valore della relazionalità nelle nostre parrottie, nella nostra comunità, ci ha dato molti più stimoli per poter riflettere, per poter declinare meglio questi concetti. Visto il bilancio positivo, si può pensare già a un secondo laboratorio? Ma l'area formazione e comunicazione dell'associazione è perenne, nel senso che diverse attività erano state fatte sotto il profilo della formazione, anche dalle presidenze passate. Abbiamo voluto, come dicevo prima, trovare un luogo che diventasse quasi un appuntamento fisso, una casa per tutti e naturalmente quest'anno abbiamo trovato tre parole chiave. L'anno prossimo ne troveremo altre, secondo i bisogni dell'associazione, secondo la progettualità che ci viene dal centro nazionale, sempre declinandolo nella logica della pastorale diocesana, perché l'associazione esprime questo carisma particolare, che è quello della corresponsabilità con l'azione dei Vescovi. Il 16 aprile 2013, alle ore 18, nella sala di rappresentanza del comune di Caltagirone, sarà presentata la rivista culturale Agora. La rivista è un trimestrale nato nel 1999 allo scopo di veicolare la cultura siciliana, facendo scoprire ed approfondire ai lettori aspetti poco conosciuti della nostra regione. Più volte il periodico si è occupato di Caltagirone del Calatino. Ne parliamo col responsabile di redazione per il Calatino, l'architetto Giacomo Lapuzza. Agora è un periodico di cultura siciliana. Quando nasce, di cosa si occupa, quale tematiche tratta? Agora è nata nel 1999 ed è un'associazione culturale che, oltre a pubblicare riviste, scrive anche per libri, quindi pubblica anche di meditoria libraria. Questa rivista esce ogni tre mesi ed è un trimestrale che si occupa di vari argomenti, tra cui architettura, urbanistica, storia dell'arte, sociologia, letteratura, archeologia. Insomma, praticamente sono argomenti inerenti alla nostra cultura siciliana, quindi si occupa solamente di storia siciliana. Lei è stato nominato come redattore responsabile della zona del Calatino e ha dei progetti, delle anticipazioni da darci? Sì, in pratica da un po' di tempo Caltagirone ha attenzionato anche in questa rivista. Gli argomenti futuri prevedono argomenti che trattano architettura e archeologia. Grazie.